Quali opportunità offre ai comuni il bando sugli Innovation Lab? Questo bando Innovation Lab è una grande opportunità per i comuni, soprattutto va presa come un'occasione per fare un salto di qualità, in quanto si concentra in particolare sugli Open Data, ma ci sono grandissime possibilità di declinarlo a seconda di ciascuna esigenza delle comunità. Ricordo che ovviamente vale per i comuni che si aggregano e quindi creano un ambito di almeno 40.000 abitanti, quindi vale la pena aggregarsi e valutare anche rispetto alle forme associative.